Io sono Paola Valenti, sono nata il 29 giugno 1964 e oggi è il 2 agosto 2018. La mia esperienza è stata un'esperienza un po' singolare, nel senso che ho avvertito determinate sensazioni non tanto fisiche, quanto per tutto il tempo della sessione, io ho sempre cercato di sforzarmi a sintonizzarmi con la PRK, avendo proprio quasi la consapevolezza di non riuscire a farlo. E quindi ho continuato a guardare queste lenti e queste lenti mi hanno un po' distolto dalla mia concentrazione, però io ho continuato con grande volontà a farlo. I momenti più positivi sono stati quando ho avvertito i miei progetti che si realizzavano, perché io ho le idee molto chiare di quello che voglio fare, la volontà proprio di vedere mio fratello stare bene, la persona con la quale vorrei tornare, ho avuto una sensazione positiva, ma sono tutte frazioni di secondo. Questa esperienza io credo di doverla ripetere, perché penso che io debba sviluppare moltissima luce. Ho avvertito invece abbastanza bene la luce che partiva dalla lente più piccola, partiva dal coccige e risaliva. Lì ho avuto una sensazione abbastanza netta, però secondo me sono tutte da perfezionare, nel senso che sono io che sono molto esigente in queste cose verso di me.